Musica Musica Nessuno sa oggi perfettamente dove saremo fra 6 mesi, fra 12 mesi e bisogna stare più vicino alla corrente per capire quando cambia direzione il vento. Buona situazione occupazionale nazionale, la Svizzera resta bene il rifugio per finanza immobile e attualmente la borsa funziona. Un'altra piacevole notizia, la FFS si stanno muovendo forte in Ticino e i prossimi 10-20 anni cambieranno scenario. Comprate lungo le stazioni della ferrovia che i prezzi prossimi 20 anni saliranno almeno del 20-25%. La consulenza di Swiss Life non è una semplice consulenza. La missione è accompagnare i nostri clienti affinché possano condurre la vita più lunga, secondo le proprie scelte e con fiducia. Perché solo così puoi vivere più a lungo se sei tranquillo. Il cliente si trova sempre a sentire diverse campane quando deve vendere il suo immobile. Possiamo anche accompagnarvi nella fase di vendita. Dai sette mesi in genere riusciamo a vendere l'immobile. E la reazione allo stress è proprio questo, cioè una reazione di allerta, di adattamento del nostro corpo rispetto a una mancanza di controllo percepita, che potrebbe essere anche un pericolo. Allora viene rilasciato cortisolo e adrenalina perché mi mette nelle condizioni per scappare. E lo stress di base non è un problema, è quanto ci rimango. Perché quando rimane a lungo il cortisolo nel nostro corpo, crea quella tensione muscolare diffusa che poi diventa... Mal di testa, torcicollo, mal di schiena, dolore cervicale, gastrite, ovviamente non tutti insieme, mi auguro per voi. Se uno deve lavorare, concentrarsi, avere a che fare con delle persone, deve scegliere, secondo voi è più facile o più difficile fare quella scelta? La vita è come uno specchio. Se le sorridi, ti sorriderà anche lei. Qual è l'obiettivo? Malessere o benessere? Benessere, ci siamo, pronti? Prendi aria sorridendo. Prendi aria sorridendo. Prendi aria sorridendo. Prendi aria sorridendo. Prendi aria sorridendo.